Salve amici, fratelli della congrega, vi mostro un squarcio pittoresco del mio quartiere, qui c'è il cortile. Si vede San Luca? Ok, siamo tutti in questo stato di quarantena, il 3 aprile, la situazione dovrebbe, speriamo finire e terminare, anche se le scuole non riapriranno, e tutto sta scemando. Molte persone, non è vero che crescendo diventano più mature, diventano sempre più sceme. Ci sono gli scimuniti, persone infingarde, bigliacche, che cercano di provocarmi in maniera ardita, più che altro è fallita, si alza il vento, il ciuffo, svolazza, e adesso usciamo, dunque entriamo, usciamo dalla terrazza, entriamo, entriamo, e appena entriamo, inizia anche a far freddo, l'acofera, dopo tante tempeste, anche emotive, ok, entriamo, no, entriamo, oddio, oddio, tutto spettinato, tutto scombussolato, voglio recensire per voi, l'ho già recensito col mio nuovo profilo su fintv.it, Detective Noir, 79 Detective Noir, 79, io classe 79, presto uscirà, se tutto andrà bene, voi, voi, io, voi uscirete, noi usciremo, uscirà anche per Daruma a Viuccino, questa rivista online, che ringrazio infinitamente per la possibilità che mi sta dando di scrivere, di esternare le mie opinioni cinematografiche, grazie alla quale ho ottenuto gli accrediti stampa, sì, sì, per la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, più comunemente detta Kermes Veneziano, oppure semplicemente Festival di Venezia, per i Festival di Roma, dove visionai di Erishman, questi giorni, peraltro lo sto revisionando, non riesco a convincermi se sia un capolavoro, un'opera fallimentare, o comunque un'perfetta, non del tutto riuscita, oppure un masterpiece totale, universale. Ok. Detto questo, speravo anche, risparmiando un po' di soldi, io so come arrangiarmi, so anche come guadagnare, in maniera onesta, per riuscire a pernottare un albergo, in Costa Azzurra, sì, 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 volevo andare al Festival di Cannes, ma per via del coronavirus, è stato tutto rimandato, probabilmente slitterà, direttura salterà anche perché, a proposito di Festival di Venezia, se davvero il Festival di Cannes si terrà, a giugno o a luglio, è inutile pure che si tenga, perché, per quanto io possa, sino a quel periodo, essere mantenuto, no, ben tenuto, mi pare inutile che si svolga il Festival di Cannes, quando, poi a fine agosto, dovrà svolgersi quello di Venezia, altro che problemi organizzativi, come faranno registi, produttori, attori, a districarsi, fra questi due Festival, già di loro, piuttosto vicini, quello di Cannes si tiene, regolarmente, verso, metà maggio, massimo, fine maggio, quello di Venezia, fine agosto, prima di settembre, quindi, ok. Racconti di Cile, sarà una recensione molto lunga, non so se, vorrete seguirmi, in questa mia, disamina, disamina con la M, ok, questa è la mia postazione di Daruma, dove presto uscirà la mia recensione, recensioni che cerco, di curare, al massimo, se poi ravviso, rileggendole, anche dopo la pubblicazione, che mi sfuggirono, degli errori, cosiddetti refusi, vado sul tasto modifica, e poi aggiorno, qui, svolgo un lavoro, certosino, non sempre impeccabile, per l'appunto, dopo, correggo, poiché io sono un po' cubrichiano, un po' perfezionista, quindi non me ne va mai bene una, e qui sono anche autironico, oltre che falotico, ecco, curo queste recensioni, con tutti i collegamenti, come si confà, secondo le direttive del mio capo redattore, a Wikipedia, per i link più importanti, con le immagini da rinominare, devono stare, voi dovete sottostare, non devono stare sotto il 100KB, da rinominare, tutto da taggare, la frase chiave, le impostazioni SEO, e a volte, utilizzo questa voce un po' impostata, da grande attore, un po' come Richard Gere, Richard Gere è uno dei miei attori preferiti, come scrive, Morando Morandini, come scrisse, che ora il dizionario è passato alle figlie Laura e Luisa, Richard Gere schegge di paura, emana, non un forte sessapiglio, si, Morandini, anziché usare l'espressione sex appeal, coniò, diciamo, questo neologismo, italianizzò, questa espressione, che indica una persona dotata di carisma sensuale, a pelle, come si vuol dire, come Richard, vero, donne? Il Richard di oggi, comunque, ancora affascinante, è un po' agé, però, diciamo, che, ecco, questo film, del 1996, se non sbaglio, del 1996, ancora, profondeva, diciamo così, un certo ipnotico, sour fare, e, non so se, da poco, fosse, separato, era ancora sposato, fu ancora sposato con Sidney Crawford, che, sicuramente, all'epoca, non era, ecco, insomma, era quella che era, ecco, era, a un look un po' pinocchiesco, sicuramente no, io, fu accusato, anche, di soffrire di disturbi, di personalità, disfunzione, di personalità multipla, ma che sono, Psycho, Anthony Perkins, di uno dei capolavori, di Hitchcock, oppure, Edward Norton, nella doppia parte, di Aaron Roy, di questo film, Scheggia di paura, ok, apriamo il file, comunque, tutto il testo, da me è salvato, opportunamente, nell'hard disk, in un documento, dove, saranno conservate, riposte, di tutte le mie recensioni, ok, ok, questo è il mio lavoro, presto pubblicato, allora, racconti di Cina, Scheggia di paura, di Gregory Obliet, non Hobbit, la pronuncia corretta, è Gregory Obliet, con Richard Gere, e Ron Horton, e non solo, oggi recensiamo, una piccola perla, degli anni 90, un film, certamente, non eccezionale, ma comunque è rilevante, sotto molti aspetti, secondo me sì, ovvero, Scheggia di paura, del veterano, Gregory Obliet, regista classe 44, sì, sì, dovrebbe essere così, quindi, un anno in meno, rispetto a Robert De Niro, nato il 17 agosto, nel 1943, che nonostante, torniamo a Gregory, molti credits, all'attivo come, director, di serie tv, e film per la televisione, se preferiti tv movie, giusto appunto, esordì, con tale scheggia di paura, nel 1996, 1996, dirigendo poi, film estremamente interessanti, perfino magistrali, a livello tecnico, come il tocco del male, Fraquancy, Fraquancy, il futuro in ascolto, Fraquancy, e il caso di Thomas Crawford, a confondere col film, con Steve McQueen, remichizzato, con Pierce Brosnan, in Jim Lee Cortez, quella di Thomas Crown, a fair, a fair, vero? scheggia di paura, attualmente disponibile, non so, ancora per quanto lo sarà, su Netflix Italia, infatti, io lo rividi lì, voi dovreste rivedere, voi qui, available, on Netflix, assieme, weird, weird, a film con, Sir Anthony Hopkins, Ryan Gosling, cast Thomas Crawford, Crawford, ma c'entra, Cindy Crawford, Cindy Crawford, Richard Gere, no c'entra niente, c'entra niente, guardate questo film, che non c'entra nulla, però con Cindy, anche adesso, anche se è un po' invecchiata, eh sì, c'entrerebbe benissimo, un fuoco fatuo però, chi? Richard, Cindy? No, questo Gregory, specializzato in questo, adesso, ok, con calma, relax, please, perché ultimamente si disperse in produzioni mediocre, parzialmente sciupando, il talento è vinto, sì, vinto, sì, noi noi vincemmo, noi vincemmo, non vincemmo proprio nulla, e vintosi dalle pellicole succitate, sì, ma quando Richard Gere e Cindy Crawford stettero, stavano assieme, chi si eccitava di più? Richard o Cindy? Eh, perché, due belli per Antonomasia, no? Allora, Cindy andava a spasso, non so, per New York, per Los Angeles, con Richard, e le donne guardavano Cindy, la invidiavano, che culo questa donna, sta con Richard Gere, gli uomini guardavano Richard Gere, e pensavano, che culo quest'uomo, sta con Cindy Crawford, ecco, in pellicole succitando, dirigendo film discreti, ma assai meno efficaci, fra l'altro, questo Gregory Hoblet, è, credo, tuttora, nonostante, da qualche, da qualche anno, non diriga più lungometraggi, tornato di nuovo alle serie tv, ai tv movie, e, ossessionato, da, da, queste storie, ecco, giudiziari, diciamo così, un po' da John Grisham, un po' anche, forse, e torniamo al silenzio, silenzio degli innocenti, e dopo, infatti, dopo, dopo diresse, dopo questi film, che, vi ho eccitato, no, vi ho eccitato, scusate, diresse, Sottocorte Marziale, con Bruce Willis, Colin Farrell, l'inutile, sciatto, nella rete, del serial killer, nella rete, o nella mente, del serial killer, nella mente del serial killer, scusate, vado a controllare, altrimenti, devo apportare, la correzione, errata corrige, corrige, eh sì, scusate un attimo, intanto, è arrivata una notifica, voglio proprio andare a controllare, su MDB, MDB, IMDB, Gregory Oblate, Gregory Oblate, Obi-Wan Kenobi, che la forza sia con te, con il tuo spirito, nella rete del serial killer, ma c'è anche il film, nella mente del serial killer, se non sbaglio, scusate, controllo subito, controllo, nella mente, sì, nella mente, se non sbaglio, non sbaglio, nella mente del serial killer, che è un film, di Rennie Erlin, torniamo a Bruce Willis, no, Rennie Erlin, diresse, trappola di cristallo, no, John McTernan, Rennie Erlin, diresse il seguito, 58 minuti per morire, no, non è lui, no, è lui, il terzo, diresse nuovamente, John McTernan, poi il quarto, il quarto, di un regista, che sta con un'altra, forse ancora più bella, di Cindy Crawford, Kate Beckins, informatevi, informate, allora, nella mente del serial killer, Mind Hunters, Mind Hunters, da non confondere, con la serie televisiva, di David Fincher, Mind Hunter, senza la S, plurale, ecco, poi queste traduzioni, Mind Hunters, quindi, incacciatori della mente, quindi profiler, senza la S, perché qui italianizziamo, tradotto, nel titolo, l'italiano è la mente del serial killer, la mente o nelle menti, allora, non facciamo della demenza, ecco, facciamo della sapienza, ecco, continuiamo quindi a recensire, come recensirebbe un fascinoso, sempre eterno, ricerchiamo, torniamo al film in questione, scheggia di paura, pellicola della corposa, durata, più del body, sai, stimolante, voglie cremose, di Cindy, no, della corposa, durata di due ore e nove minuti, tratta, liberamente, dal romanzo, Primal Fear, Primal Fear, sì, e quando vedi Cindy Crawford, la tua prima paura, è che, lì, diventerai un po', Basic Instinct, no? Allora, questo è infatti il titolo originale, anche del film, firmato, il libro, da William Dill, adesso la pronuncia è corretta, perdonatemi, comunque, facciamo lo spelling del cognome, D-A-I-H-L, ok, Screecy Power è un legal thriller, se preferite giallo giudiziario, piuttosto appassionante, sostenuto la prova vertiginosamente carismatica, come detto, di Richard Gere, in magnifica forma, persino Paolo Merighetti, nel suo dizionario dei film, sebbene assegni soltanto una stelletta e mezza, definisce l'interpretazione di Richard Gere, veramente calzante, perfettamente in parte, dice, e dice, un Richard Gere in splenda forma, sì, sì, ma così, quindi non siate invidiosi, ok, ammirate il grande Richard, vi consiglio, Richard Gere, un po' più vecchiotto, diceva Manziano, delle sue ultime prove, molto mature, Richard Gere, fra l'altro, il caso più unico che è raro, attore, comunque identificato, anzi, a causa di questo, fu svantaggiato a Hollywood, infatti, da tempo, addirittura se ne straniò, preferisce, registi più indipendenti, non della grande mecca, diciamo così, ecco, dicevo, il caso più unico che è raro, di attore, comunque, secondo me è notevole, guardatelo in Cotton Club, guardatelo nei suoi film recenti, l'incredibile vita di Norman, addirittura gli invisibili, film bellissimo, il cognome di questo regista, Overman, è da non confondere con West, insomma, quello che sta con Kate Beckins, sono sicuramente una grande volpe, sì, 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 allora, Devo ricerchire in magnifica forma, affiancato per l'occasione da un ottimo Hidro Norton, che ha il suo primo ruolo cinematografico in assoluto, primo ruolo, sono due ruoli, Haran e Ray, Ray, Roy, un debutto, quello di Norton, lodevole e di alto livello, infatti, non so se vince il Golden Globe, no, comunque ebbe la nomination, e infatti al primo colpo ottenne la nomination all'Oscar, come migliore attore non protagonista, per Norton, che poi riceverà nomination, come migliore attore protagonista, per Mark H.E.S. H.E.S., Tony K.E.S. e per Berman, come migliore attore non protagonista, e poi, ce n'è un'altra? Ormai sì, lascio cercarla voi. Allora, trama, film se non sbaglio ambientato a Chicago, Chicago, un avvocato ricchissimo, molto in gamba, sì, Richard Gale, spregiudicato senza scopoli morali, Martin Weill, Weill, Richard Gale, molto in gamba, e quando cammina con questa palcata, Richard, giacca e cravatta, no, le donne, lì in mezzo, fra le gambe, ecco, si bagnano, l'ho detta. Ok, seguendo il suo istinto, da tartufo, quasi sempre vincente, assume volontariamente la difesa di un giovanissimo ragazzo, Chierichetto, Chierichetto, di nome Aaron, di loro a nord, accusato di aver ucciso l'arcivesco della città, trucidandolo impietosamente a sangue freddo, non è tanto sangue freddo, però, con innumerevoli, per l'esattezza, 72, 78, o 69, 60, beh, coltellate esterminate inflittegli lungo tutto il corpo, colpi secchi, smembranti, l'arcivesco in modo copiosamente dissanguante e feroci, e sessimamente sanguinario, un omicidio davvero efferato, tanto c'è questa battuta nel film, lei non usi il termine efferato, perché potrebbe impressionare la giuria, persone suggestionabili, terrificante, Aaron, forse affetto da doppia personalità e schizofrenico, è realmente incolpevole come innocentemente, sin dal suo arresto, si dichiarò, col suo viso angelico, insospettabile, da servitore di un'importantissima chiesa della diocesi, diocesi, dioce, dioce, chissà, forse no, se guarderete, sino alla fine questo film, dal finale, nessuno spoiler, però, finale ambiguo, un po' diabolico, sì, doppiamenti, della personalità, torniamo, no, in Totò Diabolicus, invece Totò, si sdoppiò, moltiplichò, in vari personaggi, oppure, più furbo di quello che potrebbe a tutti sembrare l'apparenza, per l'appunto, un letale infido, doppio giochista, micidiale nel suo programmatico disegno criminosamente bastardo, è un bel figlio di zocco, questo qui, eh, ovviamente lo scoprirete, guardandosi alla fine questo bel film, di Hoblet, teso, compatissimo, malgrado la lunga durata, dove accanto alle attoriali prove svettanti, come già sopra detto, vi dovrò cerchirla al massimo splendora, non solo recitativo, è di un orton ispiratissimo, tutto il caso di comprimare di lusso, fa la sua parte con stile egregio, a partire da una fascinosa, perversamente melliflua, Laura Lenné, è lei, Laura Lenné, è lei, l'attrice di Truman Shaw, del potere assoluto, di ecco incontentissimo, è lei, sì, sì, Sino ad arrivare alla solita necepibili, torna Frances McDormand, che fa parte della psichiatra forense, forense, significa legale, ok, colei che effettua le diagnosi, sotto per il paziente, diciamo, anche se questo, Aaron è un paziente, torniamo a Totò Diabolicus, cosa dice Totò, un paziente che non ha pazienza, infatti, Frances McDormand, c'è anche Stephen Bauer, il partner di Al Pacino, Scarface, la parte di Joe Pinedo, se non sbaglio c'è anche John, si seda verso il sole, sì, però questo Edward, andrebbe un po' sedato, perché, musiche di James Newton Howard, fotografia del grande Michael Chapman, cinematographer, direttore della fotografia, di Taxi Driver, Toro Schettinato, di Fugitive, Fugitive, qualche volta, Scades di Paura, si inceppa, e la trama, dopo la prima ora, vibrante e coinvolgente, comincia a girare un po' su se stessa, complicando forse eccessivamente, l'intreccio con una serie, ripetuta di colpi di scena, di twist, 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 che, per quanto non risultino scontati, come si suol dire, oppure bolsamente telefonati, nella loro reiterata ripetitività, ricalcano, senza troppe, sorprese, ma forse neanche pretese, ecco, non è un film pretenzioso, comunque si lascia vedere, ecco, la classica suspense, hollywoodiana, mainstream, un po' tirata troppo, per le lunghe, leggermente rovinando, la granitica solidità, come detto, di un film, che privo di tali difetti, sarebbe invece, stato perfect, perfetto, anche così però, rimane uno dei B-movies, migliori dei 90's, lasciate stare quel vuoto, di Paolo Marghetti, una steletta e mezza, questo è un buon film, allora però, non lasciatevi impressionare, da questi film, questo film, ha un finale inquietante, questo Richard Gierge, costernato, ecco, faccio resino, per dire, ho capito tutto, anch'io ho capito tutto, qui segna due ore e dieci minuti, non è vero, due ore e nove minuti, film per tutti, non tanto, ok, ci sono, molti film, era un periodo, dove andranno forti, ma andranno sempre forti, questi film, queste tematiche, diciamo, le personalità, i disturbi, borderline, e la depressione, e i traumi subiti in teneretà, gli abusi, su Wikipedia, c'è scritto le porcate, addirittura, tra virgolette, chi ha scritto questo testo di Wikipedia? E' che è stato l'arcivesco, è stato, del film, spoiler, The Dan Seid, The Dan Seid sotto silenzio, andavano questi film, e poi i genitori, si imparanoiano, si hanno dei figli un po' troppo sensibili, o forse troppo intelligenti, loro non li capiscono, ma non è che mio figlio soffre di uno sdoppiamento, ma che soffre, non soffre di niente, di quello lì, siete voi tutti da curare, da prendere, da spedire in manicomio, se non serve un cappio al collo, è una bella diagnosi, allora, andavano forti, questi film, questo è un film del 2001, mi fu consigliato, mi disse, Stefano, perché non guardi questo film, cosa vorresti alludere, io sono un bell'uomo, come Andy Garcia, sono un untouchable, guardi lei questo film, The Unsaid, sotto silenzio, Andy Garcia parte del dottor Michael Hunter, già il cognome Hunter, Mind Hunter, Mind Hunters, Man Hunter, Man Hunter, allora, questa è la trama di Wikipedia, la vita di Michael Hunter, psicologo di successo, forse anche di sesso, questo barbone, questo Andy, rapa tutte le donne, viene sconvolta, quando il figlio, sedicene Kyle, in cura da un suo collega di lavoro, a seguito di una grave forma, di depressione adolescenziale, si uccide, straziato dal dolore, l'uomo divorzia dalla moglie, meglio, così, essendo Andy Garcia, finalmente può scopare tutte, allontanandosi così, anche dall'altra sua figlia, che questa qui, questa figlia qui, questa è completamente, Shelley, tre anni dopo la tragedia, un giorno, durante una conferenza, il dottore incontra una sua ex studentessa, Barbara, anche lì, no, divenuta, frattempo direttrice, di un istituto per minorenni disagiati, lei, che è una donna giata, quando diventeranno maggiorenni, può sistemarli bene, no, so io dove, la donna per cercare di dare una mano, ecco, a Michael, a riscattare la sua vita, il suo lavoro, gli propone il caso, di un ragazzo, ospite presso la sua struttura, Thomas Tommy Coffee, olio a franghe del caffè, il giovane, 17 anni, in cura presso l'istituto, dopo aver assistito, qualche anno prima, l'omicidio della madre, per mano del padre, il gastolano, è qui, di tragedia, di disgrazi in disgrazia, disgraziati, poveretti, emarginati, con ferite, che già mai si rimargineranno, le ferite dell'anima, sì, che ha sempre sostenuto di averla trovata un giorno al rientro dal lavoro, che appunto, ecco, ecco, assieme a un altro uomo, Cornuta, no, lei, lui è Cornuta, sì, chi è il diavolo? La preoccupazione di Barbara consiste nell'imminente compimento del diciottesimo anno d'età del ragazzo, appunto, lei non vede loro, perché quando questo qui avrà diciott'anni, finalmente avrà la capacità di intendere e di volere, soprattutto senza infermità mentale e senza le contenzioni di genitor castrante, momento in cui potrà essere libero, libero come un uccello, il detto viene da lì, di lasciare la struttura, in quanto la Dora sostiene che il ragazzo non sia ancora pronto per farlo, come no, è pronto, è pronto per farlo, da un punto di internamento iniziale, questo si chiama il preliminare, Michael accetta di seguire il giovane Ben, no, non giovane Ben, nel senso il nome Ben, no, giovane, punto, Ben, ben presto ha, però Tommy non solo finirà per ricordargli il figlio scompasso, ma arriverà pure a scoprire, anche grazie all'aiuto del padre e ragazza, al quale Michael farà visita in carcere, una crudele e violenta verità, causa delle dolorose stratificazioni contorte, rimozioni psicologiche di cui Tommy è vittima, che lo rendono nello stesso tempo un pericolo per se stessa e per gli altri, sì, quel ragazzo è socialmente pericoloso, va sempre controllato, dovete appurare, appurare, perché dovete appurare? Sì, la mia pelle è pura, pura come quella di un babino, sì, sì, schede di paura, un film che vi consiglio, se non l'avete visto, un film che alla fine potrà lasciarvi inquietati, o non soddisfatti, o non soddisfatti, però io so recensire il film in una maniera tutta particolare, perché io non vedo la vita con gli occhi di tutti, ma non sono Forrest Gump, la vedo meglio di voi, chiusi, non per colpa della quarantena, chiusi nei vostri pregiudizi, nelle vostre frasi fatte, nella retorica, nel buonismo, soltanto quando cominciai veramente a usare questo cervello, non so se anche questo, cioè l'uccello, cioè ragionare con la mia testa, il mondo mi si aprì io, diveni più aperto, e anche le donne con me furono più aperte, diciamo. Adesso riapriamo la finestra, e buttiamoci giù dal balcone, perché questa si chiama tragedia, no, sono una volpe, il Joker marino, un uomo che non è un bambino, non è neanche un colpino, è un bel uomo, e i capelli dovrebbero però ricrescere un po', ma si farà, si farà, una volta che si pigliò, gli appiopparono questa appellativa, che è Anthony Perkins, quello è matto, l'etichetta non ve le toglierete più, l'ho tolto l'etichetta qui, va bene, la faccia da Anthony Perkins, è il finale, edward norton quando si incazza, quando diventa Ray Charles, il cieco, no, no, a proposito di vedere la realtà, con l'anima e col cuore, con i propri occhi, con la propria anima, e se vede, e puttana, dove cazzo pensi di andare? Un po', Eddie Orton, di Mark Nistre X, un po', Edward Fallon, Fallon, John Connor, Richard Little 2, tu hai dei problemi ragazzo, no, no hai problema, oddio, che problema c'è perché, a proposito, di problemi alla test, sta spaccando, ha dato una botta, speriamo di dare, altri tipi di botte, sì sì, il falò, il falò, il falò, il falò, il genius pop, il genius pop, il genius pop, oddio, il falò delle vanità, signori, signore e signori, ladies and gentlemen, che... signori,